Potrebbe soffrire di una rara malattia genetica, la piccola Maranabel. È stata portata dai genitori nelle scorse settimane in diversi centri medici specializzati, tra cui l'azienda universitaria ospedaliera Federico II di Napoli, ma purtroppo non è stata ancora resa nota dai sanitari una diagnosi precisa. La piccola è una cittadina di Agropoli di appena due anni. Nei mesi scorsi Maranabel ha iniziato a manifestare una regressione delle competenze motorie e la comparsa di disturbi del movimento. Sono quattro mesi che la piccola versa in queste condizioni. La bimba è già seguita nella città di Agropoli da una struttura sanitaria per ritardo dello sviluppo psicomotorio. Già da quando aveva un anno non camminava, fa sapere il papà. La speranza dei genitori è la visita fissata all'ospedale Gaslini di Genova il prossimo 12 ottobre, dove la piccola dovrà essere ricoverata. I genitori hanno lanciato un appello sui social per avere un sostegno economico che servirà a coprire le spese di vito e alloggio durante i giorni di ricovero della loro piccola. L'appello del papà a Vito Marotta è quello di essere sostenuto per le spese che serviranno a Genova. Per chi volesse donare è possibile fare la propria donazione al seguente IBAN IT 690360810538246614146623. Intestato a Vito Marotta.